Aspetta, parliamo. Non voglio parlarne. Dovevo fermare il gioco. Guarda che per me non è un gioco. Sono sposata, Gino. Lo capisci questo? Lo sai che cosa significa che appartenga a qualcun altro? Dammi quella che ci faccio anche. Dove l'hai trovata? Era nel tuo armadio. Tu hai pensato di prenderla? Sì. Perché? Perché era indirizzata a me e volevo leggerla. Amanda, sei solo un gioco per te. Perché vuoi leggere una lettera che io ti ho indirizzato 22 anni fa? Che cosa significa per te? Non lo so. Volevo solo leggerla. Amanda, questa lettera è mia. Sì, Gino, scusa. No, no. Tu non capisci. Tu non capisci. Tu non puoi venire qui a casa mia a fare quello che ti pare. Prendere una lettera che mi appartiene. Perché... Questa lettera mi appartiene, cazzo. Questa... Questa lettera è mia e... Gino, ok, scusa, ma che... Cazzo, era mio figlio. Era anche mio figlio, cazzo. Dimmi, perché l'hai fatto? Perché... Era il nostro figlio. Dimmi, perché l'hai fatto? Jim, tu... Tu mi dicevi che eravamo troppo giovani. Certo. Certo, che cazzo avevo sedici anni. Sedici. Ero... Ero spaventato. Avevo paura, avevo bisogno di tempo. Ma... Tu te ne sei andata. Tu te ne sei andata. Cazzo, tu te ne sei andata. Dimmi, dimmi, dimmi. Era... Era una vita, cazzo. Era una vita, noi saremmo stati felici. Era... Ho perso tutto. Ho perso. Ho perso. Ho perso. Ho perso. Diciamo... Sì. Sì... Sì! Diciamo! Sì, gliela! Mi dispiace, mi dispiace. Io non mi dispiace. io non ho fatto quello che ho fatto senza pensarci e adesso mi rendo conto di di quanto tu ci sia stato male ma sono stata io a dover entrare lì dentro in quella stanzetta e a doverlo fare sono stata io a tormentarmi per giorni nella mia stanzetta a pensare a cosa avrei dovuto fare a cosa a come comportarmi da sola ero da sola e tu mi hai mandato mi hai mandato una lettera ridicola con scritto quelle battute sarcastiche strane e mi hai mandato un palloncino un palloncino con scritto rimettiti presto un palloncino c'è non lo so c'è stato un momento in cui io ho capito che eri troppo giovane per gestire la cosa che eravamo troppo giovani per poterlo fare io avrei dovuto affrontare tutto da sola non ce l'avrei fatto oggi e se adesso tu mi chiedi se io ho dei rimpianti sì sì c'è no veci Amanda, affronteremo insieme questa situazione. Tu sei il mio mondo, non smetterò mai di amarti. Era quello che ti ho scritto all'inizio. Mi dispiace. Scusami. 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 Scusami.